Ecco che entrano le due formazioni che oggi recupereranno una gara del campionato provinciale, categoria giovanissimi, girone unico di Chieti, una gara di gennaio non disputata per la nera. Qua ci troviamo a fare a San Martino, le due compagini, Valle Aventino e Virtus Castelfrentano. Ecco adesso fanno la scelta del campo, si salutano i ragazzi, tocca al lupo ragazzi, vai Messi, ti voglio vedere il Messi oggi. Ecco vanno a salutare le rispettive panchine, ecco degli bari mister. Ecco si preparano, l'arbitro sta controllando la rete, ecco alzatevi ragazzi, alzatevi. Ecco, bocca al lupo ragazzi, bocca al lupo, grazie, bocca al lupo.